9 arresti di cui 8 in carcere e il risultato dell'operazione sottotraccia, un caso di estorsione e usure a tappeto con tassi fino al 490% annui. In un caso si è arrivati a 130.000 euro, poche le collaborazioni con la polizia da parte delle vittime che spesso vedevano il loro strozzino come un benefattore. Aggressione di un turista al centro storico, oggi riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza per far fronte agli episodi di violenza. Il prefetto Maria Carmela Librizi ha ribadito infatti l'importanza delle telecamere al centro di Catania dove parecchie sono spente, sia come deterrente che per individuare i colpevoli. Cerca di sfuggire ad un controllo della polizia e non si ferma all'Alt, in auto fugge verso Librino. Da via Quicella Porto inizia così un inseguimento che termina in Viale Moncada. Qui il giovane pregiudicato si schianta contro una volante messa di traverso per sbarrargli la via di fuga. Nel mezzo l'uomo portava con sé un piede di porco. Rifiuti a Catania. Dall'inizio dell'anno a oggi elevate ben 251 multe in residenti per la raccolta differenziata che causavano la formazione di microdiscariche. Multati anche 15 autotrasportatori irregolari di rifiuti per un ammontare di 47.300 euro. Tutte le notizie su freepressonline.it. Il prossimo notiziario domani alle 20.30.